Buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, mercoledì 10 gennaio. Appuntamento questa sera con Matrix su Canale 5 e su Radio 105 Matrix alle 19. Come sempre condividete questa zuppa se vi piace. Ho finito di fare gli spot personali e vediamo cosa è successo sui giornali per iniziare questa Rassegna Stampa. Insomma, per quanto riguarda la campagna elettorale, iniziano ad esserci le cosiddette dichiarazioni elettorali. Da qua fino al 4 marzo ci faranno una testa grande così su quello che penseranno i grandi partiti di fare per risolvere i vostri problemi. Come se poi sia lo Stato a risolvere i vostri problemi e non siamo purtroppo noi a dovercela smazzare. Diamo spesso troppo peso alla politica, ma comunque questo è un altro discorso. Quello che succede è che il Movimento 5 Stelle ieri con Di Maio, attraverso un'intervista fatta da Vespa, ha detto che l'euro non è più in discussione. C'è quell'anima iniziale, anti-europeista che ci aveva sia il Movimento 5 Stelle sia la Lega. Quando ci si avvicina al governo, questa è una di quelle promesse o comunque di quegli annunci che non si vuole più fare. Probabilmente hanno visto i sondaggi. Quindi se ti dicono che ti aumentano le pensioni, tutti italiani sono ipocritamente d'accordo. Se ti dicono che riducono le tasse sono tutti quanti d'accordo. Sull'euro evidentemente, da quello che è il comportamento del Movimento 5 Stelle e della Lega, non c'è più una unanimità negli italiani. Tutt'altro. Quindi mi sembra di capire che il Movimento 5 Stelle ha abbandonato la sua posizione anti-euro. L'asse invece è sempre più interessante che ci potrebbe essere, è con il Movimento di Grasso, quello che non paga i debiti. Oggi da qualche parte ho letto una battuta il Marchese del Grasso invece che il Marchese del Grillo. Nel senso che lui non vuole dare i suoi 80 mila euro al PD, che pure deve, secondo l'accordo che ha firmato quando si candidato. Ma l'asse tra Movimento 5 Stelle e PD reggerebbe, secondo un'indiscrezione che leggo oggi, grazie a Alessandra per gli applausi di Matrix di ieri sera, l'asse tra Movimento 5 Stelle e PD nascerebbe dal fatto, dice Di Battista, che poi alcune battaglie sono comuni, come quella dell'abolizione delle tasse universitarie. Clapla, 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 questa è la più grande stronzata, tra le tante stronzate che hanno detto in campagna elettorale, che oggi è uscita. Cioè abolire le tasse universitarie tesi di Grasso, che piace ovviamente di Battista e del Movimento 5 Stelle, è il modo migliore per aiutare le persone più ricche, in nome delle più povere. E' straordinario, l'ho scritto in tutti i modi, continuo a scrivere da quando ero ragazzino, da quando lavoravo all'opinione, le tasse universitarie sono soltanto una frazione di quello che costa l'istituzione universitaria. Quindi 1000 euro, 1500 euro di tasse universitarie, in realtà costano 7000 euro queste persone. Quindi che cosa si fa? Stiamo incentivando tutti noi italiani a studiare all'università una frazione piccola di persone che si laureerà. Bene, questa persona quindi viene sovvenzionata dai figli dei meccanici, dai metalmeccanici, dagli artigiani, dai commercianti che non si laureano, che con le loro tasse pagano delle persone perché si possano laureare, perché le stesse persone che si laureano pagano soltanto una piccola frazione di quello che devono. In realtà questo non è un discorso complicato, è molto semplice, evidentemente complicato per Grasso, gratis per tutti l'università. Una bella idea che aiuterà i più ricchi. Sono molto felice, i miei figli andranno all'università fra dieci anni, l'idea che loro, nonostante siano figli di una persona che se lo può permettere, possa andare gratis all'università, mi fa orrore per l'Italia, piacere individualmente. L'altra cosa incredibile è la deriva populista della centrodestra. Deriva populista non come affermano i suoi critici da sinistra, ma come afferma un liberista come il sottoscritto. Oggi dovrei avere a 105 Matrix in radio Silvio Berlusconi intervistato, gli chiederò come si fa a dire che bisogna cancellare il Jobs Act. Allora, se io sento Grasso, il Movimento 5 Stelle o persino la Lega a dire che si deve cancellare il Jobs Act, ci sta. Ma un imprenditore che mi dice che si deve cambiare il Jobs Act di Renzi, lo stesso imprenditore che cercò di abolire l'articolo 18, sic et simpliciter, e contro questa abolizione dell'articolo 18 quasi cadde il suo governo, perché mi ricordo qua a Circo Massimo la manifestazione del CGL contro l'abolizione dell'articolo 18, l'articolo 18 viene surrettiziamente cancellato da Renzi e solo per questo uno dovrebbe dire, insomma questa parte è buona del Jobs Act. No, niente, fa schifo. Ovviamente fa schifo anche il lato sull'occupazione, oggi voglio mettermi contro il 90% degli italiani, ma di fatto a me basta per questa zuppa il 10% degli italiani, se magari mi seguisse il 10% degli italiani sarei un uomo di grande, anche perché quello che mi interessa è fare informazione e non fare politica, non mi candido. E quindi posso dire delle cose che siano completamente impopolari. Sapete una di queste cose impopolari? E che ieri i dati sull'occupazione hanno portato a 23 milioni di italiani dell'occupazione, invece per una volta di dire, beh, comunque bene, cosa diciamo? Eh beh, però questi occupati negli ultimi mesi sono tutti quanti precari, cioè la parola precari, anche io sono un precario, ma chissà quante persone vorrebbe essere precaria come me, non guadagno, qualche cretino ieri ci ha creduto, non guadagno 5 milioni al mese, 5 milioni di euro al mese, ma sono certamente una persona privilegiata. Allora, io mi chiedo, io mi chiedo come si può una volta che l'occupazione sale a 23 milioni iniziare subito a fare il distingo precari, non precari, cattivo lavoro, ma allora secondo voi è meglio non lavorare o avere un lavoro per qualche ora? Secondo voi è meglio un reddito di dignità, come lo chiama Berlusconi, o un reddito di cittadinanza, come lo chiama il Movimento 5 Stelle, da 750 euro, o lavorare e guadagnare 750 euro, anche se in modo temporaneo? Io non lo so, c'è questa differenza tra un socialista e un liberale, un liberale pensa che sia meglio il lavoro, il socialista pensa che sia meglio l'assistenza, non è che mi sembra una cosa così complicata, vorremmo tutte persone che lavorino per 50 anni in tempo e guadagnano migliaia di euro, certo che sarebbe molto meglio avere un paese così, certo, ma adesso se noi abbiamo 23 milioni di occupati e stanno aumentando gli occupati sia pure non a tempo indeterminato, ci troviamo alla destra che si lamenta, io mi ricordo che questo era un refrain della sinistra, la cattiva occupazione, i padroni che ci sfruttano, e cambia tutto quanto, vabbè. Allora, lamentiamoci perché ci abbiamo 23 milioni di occupati e era meglio quando erano 22 milioni ma erano tutti a tempo indeterminato, insomma, ragioniamo pure così e continuiamo a farlo, mi stupisce che quando il centro-destra ragiona così qualcuno non si alzi e dice ma che stai dicendo? Va bene, l'altra storia che secondo me, e ci sono due storie straordinarie, straordinarie, anzi una piccolina che ve la devo dire subito e oggi ho letto sul giornale la seguente cosa e cioè che Hamilton, che è un grande sportivo, cioè un corridore che guadagna milioni di euro, lui ne guadagna milioni di euro, è stato pagato per partecipare a 25 minuti di intervista da Fabio Fazio 150 mila euro che per Hamilton sono peanuts, sono zecole, lo fa con un paio di giri della sua pista perché nessuno si lamenta e mette i tetti e gli stipendi ovviamente di questi precari di lusso che sono i piloti di Formula 1, però c'è una questione, allora abbiamo fatto due palle così sul fatto che ci vogliono i tetti, secondo me sbagliati, per i conduttori televisivi della RAI a 240 mila euro, quindi i conduttori televisivi RAI non possono prendere 240 mila euro tranne Fazio e Vespa e poi invece non ci indigniamo per il fatto che con i vostri soldi si diano 150 mila euro a un ospite per 25 minuti. Io non ce l'ho contro Hamilton, ma ce l'ho contro la nostra follia per cui un professionista italiano che conduce un programma televisivo non può prendere più di 240 mila euro, ma prendiamo un ospite che si chiama Hamilton per 20 minuti e gli diamo 150 mila euro, sono sempre soldi nostri, mica è Fazio che li paga di tasca sua, magari pagasse di tasca sua dai suoi 2 milioni e mezzo all'anno un pochino di Hamilton, io lo so, conduco un programma televisivo in media, 750 mila euro, ci facciamo non so quante puntate di Matrix, ma come di tutti gli altri programmi delle televisioni commerciali, cioè l'idea che una televisione pubblica possa pagare così tanto va benissimo, se fosse ricchissima, se avesse tanta pubblicità, ma c'è un piccolo problema, che questi soldi sono pagati da voi, il che va anche benissimo, va bene, vogliamo il canone, ma per fare il servizio pubblico qualcuno mi deve spiegare cosa c'entra Hamilton col servizio pubblico, non è un attacco alla RAI, non è un attacco al servizio pubblico, è esattamente il contrario, rivendichiamo un servizio pubblico, ma ricordandoci che non è con i tetti ai giornalisti che poniamo una questione etica, ma forse interrogandoci su quanto si paga per avere Hamilton a RAI 1, va bene? Fantastica, Catherine Deneuve oggi insieme ad altre 100 intellettuali francesi e attrici francesi che ha detto basta, avete rotto le scatole su questo puritanesimo americano, il diritto degli uomini a corteggiare e anche ad essere un po' molesti nei confronti delle donne, Catherine Deneuve numero 1, anzi numero mi viene a dire, una che odierebbe ovviamente la decretazione femminile delle particelle dei segretaria e cancelliera, Catherine Deneuve numero 1, così che come la Francia ogni tanto ci insegna, come rispetto al puritanesimo americano, un po' di rivoluzione francese è sempre stata utile. Ultima cosa, ma la devo veramente dire, è questa roba di Carlo De Benedetti. Carlo De Benedetti è emerso oggi su alcuni giornali, ma io l'avevo scritto il 15 dicembre del 2015, tre anni fa, due anni e mezzo fa, due anni fa lo scrivo sul giornale unico, solitario, lo potete trovare ovviamente su Google, anzi lo metterò sul mio sito nicolaporro.it, io tre anni fa cosa scrivo? Scrivo che De Benedetti chiama il suo broker il 16 di gennaio e dice comprami le Popolari e lui dice ma perché te le compro? Perché ho parlato con Renzi e le trasformeranno più o meno in società per azioni e gli chiede De Benedetti al suo broker, ma scusami, De Benedetti chiede al broker, ma secondo te questa cosa li fa guadagnare di prezzo? Il broker dice beh certo se fanno un decreto che le trasformano in società per azioni voleranno. Compra le azioni, guadagna 600 mila euro nel giro di quattro giorni perché poi c'è il decreto del governo e questa roba qui indaga la console dell'odiato Vegas, eppure Vegas indaga, manda le carte alla procura di Roma e la procura di Roma assolve tutti perché il fatto non sussiste, cioè lui chiama il suo broker, dice di sapere una cosa, quella cosa avviene, guadagna i soldi su quella cosa, ma per la procura di Roma questa cosa non vale, d'altronde un po' dicevano circolava questa informazione in giro che poteva avvenire questo cambiamento sulle Popolari. Allora quello che io mi chiedo, togliete De Benedetti, metteteci Nicola Porro a fare questa telefonata, metteteci Silvio Berlusconi a fare questa telefonata, metteteci la Virginia Raggi a fare questa telefonata, metteteci Antonio Fazio a fare questa telefonata, cioè telefonare a un broker, fargli comprare delle azioni, guadagnare 600 mila euro nel giro di tre giorni perché sia un'informazione privilegiata. Quale procura al mondo ci avrebbe archiviato nel giro di pochi mesi? Quale al mondo? Nessuno, perché lì...